Ciao, nel video di oggi vorrei parlare di un altro vantaggio della vita in Francia e di tutti i vantaggi che sono legati al mondo del lavoro in Francia. Sarò obbligata, come sempre, come in tutti i video, a fare delle generalizzazioni e magari a parlare anche della mia esperienza, senza per questo volerla imporre come verità universale. Questo è ovvio, però spero che il video possa essere utile a qualcuno di voi per avere un'idea un po' più chiara di come funziona il mondo del lavoro in Francia, anche rispetto a quello italiano. Allora, quindi in contrapposizione al mondo del lavoro italiano, io in Italia avevo notato negli anni in cui ho lavorato lì, soprattutto due aspetti che non mi erano piaciuti e che mi avevano infastidita. Il primo era il fatto che il lavoro era molto precario, è molto precario, c'è questo senso di precarietà in Italia. Quindi lavori sottopagati, contratti che durano poco, contratti anche poco chiari, magari lavoro nero, avere un contratto a tempo indeterminato è considerato una specie di miracolo. E diciamo che sì, c'è questa precarietà generale che fa sì che la ricerca di lavoro sia veramente ossica e avere un lavoro stabile possa diventare qualcosa di raro. Il secondo aspetto che è connesso a questo primo aspetto di precarietà, perché ovviamente le due cose sono connesse, se ci sono poche opportunità e comunque è normale, bisogna mangiare e a fine mese si ha bisogno di uno stipendio, si tende ad accettare un po' tutto e quindi c'è questa mentalità diffusa in Italia, una mentalità, non è che la voglio chiamare di schiavismo, criticando chi accetta dei lavori precari e capisco che sia obbligati a farli, però c'è questa mentalità sì di piegarsi a tutto, di accettare tutto. Ti offrono un lavoro, ti propongono un lavoro, è un lavoro, bisogna dire di sì, e vabbè, è in nero, e vabbè, non c'è il contratto, e vabbè, c'è un contratto che viene rinnovato ogni due settimane, e va bene lo stesso, lo stipendio è da miseria, e vabbè, dai, ok, devi accettarlo. Hai già un lavoro? Magari hai già un lavoro a tempo indeterminato? Beh, tu devi star lì, cioè, è un miracolo, tienitelo, non cambiare, perché puoi andare dalla padella nella braccia, non cercare altro, ringrazia, ringrazia di avere un lavoro, ringrazia già di avere un lavoro. Questi sono discorsi che io sentivo tanto in Italia e che sento anche adesso dalle persone che vivono lì, non tutti, non sempre, dipende anche dalle regioni, però a me sembra che questa mentalità del piegarsi a tutto sia, in ogni caso, ancora abbastanza diffusa in Italia. È una mentalità della disperazione che non ha niente di male, ripeto, non la critico, perché se le opportunità sono poche, sono poche. Io, quando avevo deciso di lasciare l'Italia e di lasciare il mio lavoro, avevo un contratto a tempo indeterminato nel 2014, e appunto questo contratto era considerato, dalle persone che avevo intorno, amici, famiglia, come un miracolo e come una cosa che io ero pazza a lasciare, soprattutto perché non sapevo bene cosa avrei fatto dopo, però io non mi trovavo bene, avevo deciso di lasciarlo comunque, ma con molte contraddizioni all'interno di me stessa, dicendomi, oddio, non troverò mai più niente. Quindi questa mentalità ovviamente ce l'avevo anch'io e ne soffrivo in un certo senso. Ecco, rispetto all'Italia, in Francia, questi aspetti sono un po' meno presenti e secondo me ci sono dei vantaggi nel mondo del lavoro francese che posso dirvi appunto in contrapposizione a quello che ho potuto vivere in Italia e a quello che sento oggi raccontarmi sull'Italia. Prima cosa, avere un lavoro stabile in Francia, avere un contratto a tempo indeterminato, diciamo, che in francese è un CDI, non è una cosa miracolosa, rara, particolare da cercare con il lanternino, è ancora una cosa abbastanza comune in tutti i settori, cioè non è che bisogna essere commiracolati o essere dei geni per poter, non dico pretendere, ma mirare ad avere un contratto stabile. Che poi sappiamo che il contratto stabile non è perché siamo fissati che vogliamo un contratto stabile a vita, è perché è la base del potersi costruire una vita come la si vuole, diciamolo. Cioè non è che dire, ah sì, voglio a tutti i costi un indeterminato, è perché vuoi avere indeterminato scritto su un pezzo di carta, no, è perché è per costruirsi una propria vita, è normalissimo volerlo, ecco. Quindi in Francia è ancora abbastanza comune avere un contratto a tempo indeterminato, non è un miracolo. Altra cosa, in Francia esistono dei contratti come quelli interinali, ad esempio, anterim, quindi contratti che si ottengono passando per agenzie interinali, che sono sì contratti precari, proprio come in Italia, ma che proprio perché precari sono, diciamo, indennizzati, pagati meglio. Quindi sia nello stipendio mensile che a fine contratto si ricevono delle indennità aggiuntive proprio perché si tratta di un lavoro precario e la persona non è che il giorno in cui finisce il contratto deve cadere nella disperazione e non avere più abbastanza soldi per comprarsi da mangiare, ma deve essere indennizzata correttamente. Quindi il lavoro interinale in Francia rimane un'opportunità abbastanza interessante, almeno per un periodo o per un primo periodo, perché effettivamente si tratta di lavori sì precari, ma pagati, diciamo, correttamente, cosa che invece in Italia non ho troppo sentito, non ho sentito parlare del lavoro interinale in questo senso, a dir la verità. Altro aspetto in Francia, il lavoro nero, non dico che non esista il lavoro in nero, però è veramente marginale. Quasi tutto in Francia viene fatto in regola, perché è proprio anche il sistema che è strutturato in questo modo, cioè senza un contratto di lavoro è impossibile anche prendere solo una stanza in affitto, perché anche gli affitti sono dichiarati, non sono in nero, quindi tutto si basa su una certa regolarità delle cose, quindi anche un'azienda che assume e che è seria, ma qualunque azienda non farà lavorare in nero, le persone, può esistere, ma è veramente marginale, eccezionale, mentre mi ricordo che in Italia capitava questa cosa abbastanza spesso, cioè il lavoro nero è ancora diffuso parecchio in Italia. Qui anche, diciamo, donne delle pulizie, babysitter, eccetera, per la maggior parte sono dichiarate, perché poi ci sono ovviamente degli sgravi fiscali o anche proprio degli aiuti statali per le famiglie che assumono una babysitter o una delle famose nounou, come si chiamano qui, che tengono i bambini. Quindi ecco, il lavoro in nero non esiste, cioè non dico che non esiste, è marginale in Francia, così come è comune in Francia, e questo in Italia mi ricordo che non si faceva, era molto raro, è comune essere chiari magari sul lavoro che si sta proponendo e sul tipo di contratto e anche sullo stipendio, fin dal momento dell'annuncio, cioè spesso negli annunci c'è già indicato questo è un indeterminato, questo è un determinato di due mesi, questa è una sostituzione maternità, e per lo stipendio siamo su un lordo più o meno, in questa, cioè magari non dicono una cifra esatta, però dicono una forchetta, una tranche di stipendi. Quindi, e se non viene detto nell'annuncio, è abbastanza comune ed accettato anche chiedere questa informazione al colloquio, perché è considerato normale. Quindi non si è in un'ottica come quella italiana, in cui io mi ricordo che questa cosa di chiedere lo stipendio era proprio vietatissima, cioè in tutti i consigli ti dicono assolutamente non lo chiedere mai, perché passerai per qualcuno che vuole solo lo stipendio, invece bisogna mostrarsi come persone che vogliono lavorare per la gloria, perché quel posto è fantastico. E certo io applicavo questa regola, ma mi ricordo che in Italia tante volte non si diceva neanche il tipo di contratto per cui si stava facendo il colloquio, cioè io ricordo colloqui fatti uno, due, tre colloqui per poi scoprire, ah vabbè è uno stage, oppure sì, non lo so, un contratto di tre mesi. Sì, va bene, però alla fine il lavoro non è ti ringrazio che mi dai un lavoro qualunque, il lavoro dovrebbe essere uno scambio di prestazioni, diciamo, corrispettive. Io lavoro, tu mi paghi, tu mi paghi, io lavoro. Non è sono il tuo schiavo e ti ringrazio che mi fai lavorare, che posso mangiare grazie a te. Io contribuisco anche alla tua azienda, no, con il mio lavoro, altrimenti non mi assumeresti. Quindi, questo discorso in Francia, diciamo che è un po' migliore, nel senso che si può chiedere lo stipendio, si può essere chiari fin dall'inizio, senza passare per uno, per uno scansa fatiche. Ecco, i diritti in generale io li trovo un po' più rispettati e vedo i francesi anche più agguerriti nel caso in cui non vengono rispettati. Parlo ad esempio di straordinari su straordinari, non pagati, diritti che vengono tolti a un certo punto così, magari da un giorno all'altro. Questa cosa non viene molto accettata in Francia e in genere le cose sono molto strutturate. Io mi ricordo che nella mia azienda, che è molto piccola, nell'azienda in cui lavoro, a un certo punto il proprietario dell'azienda aveva un po' rimesso in questione il discorso dell'assicurazione sanitaria che l'azienda ci forniva, perché qui in Francia ecco un altro lato positivo è che tutte le aziende sono obbligate a fornire un minimo di copertura sanitaria complementare, privata, che va ad aggiungersi alla copertura pubblica. per coprire delle spese sanitarie e nella nostra azienda avevamo un'ottima assicurazione e a un certo punto il proprietario, senza che ci fossero particolari problemi economici, perché a quei tempi l'azienda era molto florida, aveva detto vorrei risparmiare su alcuni costi e quindi vorrei prenderne una meno cara di assicurazione per risparmiare. E lì la ribellione era stata istantanea e diciamo globale. Questa cosa mi aveva colpita positivamente nel senso che ecco diciamo che c'eravamo tutti opposti subito in maniera compatta e alla fine non ci aveva cambiato questa assicurazione per fare un esempio. Ma lo stesso per quanto riguarda magari straordinari non pagati o giorni di recupero, diciamo che i francesi io li ho sempre visti abbastanza agguerriti e non solo agguerriti a livello dello sciopero dei ferrovieri che effettivamente è una roba selvaggia che dura settimane in cui non ci sono più i treni, ma anche proprio nelle piccole aziende e nei piccoli rapporti diciamo di lavoro. C'è una certa onestà, schiettezza e non si ha paura a chiedere che vengano rispettati determinati diritti o comunque anche a negoziare per avere di più. Poi magari ti va male però è considerato normalissimo farlo ed è considerato normalissimo chiedere degli aumenti o negoziare ad esempio il proprio stipendio quando ci propongono un nuovo lavoro. Ultimo aspetto positivo secondo me del lavoro in Francia è proprio un certo livello di flessibilità e di dinamismo per quanto riguarda la possibilità nel corso della vita di cambiare lavoro sia di cambiare azienda continuando a fare un lavoro simile quindi dando le dimissioni cambiando lavoro sia anche di fare quella che in Francia viene definita riconversion professionnelle quindi una riconversione professionale vuol dire imparare a fare un altro lavoro e insomma cambiare completamente settore o professione anche a 40 o 50 anni è abbastanza comune e si tratta anche di queste riconversioni questi cambiamenti si tratta anche di percorsi che sono finanziati a volte cioè lavorando accumuliamo dei crediti per la nostra formazione e possiamo utilizzare poi questi crediti per riformarci a fare altro cosa abbastanza positiva e opportunità abbastanza interessante quindi c'è questa flessibilità in generale rispetto alla possibilità di cambiare rispetto al fatto che anche se ci si trova disoccupati per un periodo la cosa non è vista in maniera così tragica o stigmatizzata in Francia e il fatto che cambiare lavoro sia una cosa abbastanza comune e normale ovviamente non c'è il dinamismo forse di paesi come gli Stati Uniti o il Canada dove si cambia veramente spessissimo lavoro e dove persone che ci abitano mi hanno detto che effettivamente succede che vieni licenziato dall'oggi al domani e te ne vai con il tuo scatolone con dentro le piante e poi però le tue tazze di tè e poi però dopo due giorni ritrovi un altro lavoro non dico che la Francia sia a questo livello cioè se hanno dei lavori un po' più stabili licenziare non è così semplice ci sono dei sistemi di preavviso eccetera il che è abbastanza positivo e non è che si trova lavoro in un giorno però devo dire che c'è abbastanza flessibilità e questo è un aspetto positivo per qualcuno che arriva dall'estero perché magari una delle paure è dire ok all'inizio faccio ad esempio un lavoro che considero abbastanza basic magari anche se ho una laurea vado a farla a pipisitero e lavapiatti non è che poi essendomi trasferito con quel lavoro lì giusto per avere uno stipendio inizialmente poi rimango bloccato in quel lavoro a vita non potrò più cambiare rimarrò rimarrò completamente bloccato lì io direi di no cioè può essere interessante davvero approdare in Francia con uno di questi lavori per avere uno stipendio e per cominciare a conoscere il paese imparare la lingua e poi davvero le possibilità di cambiare soprattutto se alle spalle si ha già una formazione anche fatta in Italia una laurea comunque è considerata anche le lauree umanistiche che in Italia quasi ci si sputa sopra qui sono abbastanza considerate quindi non bisogna avere paura di cominciare eventualmente adattandosi un po' all'inizio e poi di passare ad altro perché è assolutamente possibile perché la situazione è abbastanza flessibile tutto quello che ho detto ovviamente al netto della crisi che stiamo vivendo in questo momento nel 2020 e che probabilmente diventerà una crisi anche più forte nei prossimi anni sia in Francia che in Italia anche al netto di tutto questo io trovo che possa essere interessante cercare lavoro in Francia per un italiano proprio per tutti questi vantaggi che vi ho detto il tema del lavoro mi sta appassionando sempre di più quindi se avete delle domande o dei commenti scrivetemeli scrivetemi anche in privato magari se avete domande su settori specifici e farò in modo di approfondirli magari in dei prossimi video o articoli del blog per oggi ho detto tutto e vi saluto ciao ciao